Piccolo incidente per il simpatico presentatore di Striscia la notizia Enzo Giacchetti. Infatti vi ricordo che è insieme a Greggio uno dei conduttori di questo programma televisivo di questo DG Satirico mentre stava facendo il suo ingresso all'interno dello studio nella puntata, per così dire, puntata di ieri sulle note di la coppia più bella del mondo che vi ricordo cerca di ironizzare su Ezio ed Enzo. Ecco che purtroppo qualcosa sarebbe andato storto. Infatti i due entrati entrambi all'interno studio con un passo decisamente incerto ha provocato questo passo incerto la caduta proprio di Giacchetti piuttosto parelli. Non riuscivano il conduttore, pensate, che avrebbe addirittura sbattuto la testa da come si dice nel web. Non si sarebbe fatto niente virale per fortuna tanto che subito le battute sarebbero state per così confezionate ad hoc da parte dell'amico e caro collega di Avventura. Sto parlando di Ezio Greggio. Bene, questo è quanto. Io vi ringrazio per l'ascolto. Poco tempo per riprendersi e per stare all'interno del Banco Medici per continuare l'impegno a livello televisivo per anche questo meraviglioso personaggio pubblico della nostra televisione italiana. Complimenti sempre a Giacchetti e a Greggio, due personaggi di spicco dell'attività italiana. Auguri di ogni bene a entrambi. Iscrivetevi, commentate. Questo video termina qua. Un saluto e a presto.